Il carcere Casetti di Rimini, lasciato da troppo tempo nel dimenticatoio, lo gridano gli agenti della polizia penitenziaria che hanno manifestato davanti alla casa circondariale riminese una situazione, dicono, insostenibile per la carenza di personale e sovraffollamento nelle celle. Il sit-in dei sindacati SAP, OSAP, UIL, FP, CGL, USPP, CNPP e CIS è stato organizzato per chiedere di adottare provvedimenti diventati ormai indispensabili per garantire la struttura. Non soltanto una carenza di organico, spiega Francesco Campobasso, segretario nazionale del SAP, che al momento si attesta su 44 unità in meno, ma ha anche la mancanza, dice, di un direttore in pianta stabile da oltre tre anni. Ogni tre mesi il direttore viene avvicendato a altri istituti, in così poco tempo non ha nemmeno il tempo di conoscere la struttura, non abbiamo, continua nemmeno più un funzionario in pianta stabile della Polizia Penitenziaria. Poi, sul fronte dell'affollamento nelle celle, in questo momento la capacità massima dei casetti di 30 unità in più e aggiunta la carenza di personale, provoca carichi di lavoro estenuanti. Con questa protesta, conclude Capobasso, vogliamo chiedere iniziative anche temporanee per ottenere più agenti e soprattutto un aumento in periodi come quello estivo che fanno segnare un maggior picco di detenuti. Da troppo tempo, oramai questi provvedimenti sono assenti, la situazione non è più accettabile. Da oggi, spiega, abbiamo dichiarato lo stato di agitazione per chiedere un incontro in prefettura con i rappresentanti delle istituzioni affinché le nostre richieste vengano accettate.